Eccoci di nuovo insieme se a casa prosegue e vi presentiamo il nuovo libro di Gianfranco Jovino, il romanzo dal titolo Abbracciami che tratta vari temi sociali tra cui il bullismo omofobico ma anche il rapporto con gli anziani e quindi queste persone più adulte che diventano un vero e proprio patrimonio e anche un sostegno. Allora do il benvenuto al giornalista e scrittore Gianfranco Jovino, grazie per essere con noi. Eccomi qua, grazie a voi di ospitarvi. È un piacere Gianfranco anche perché questo è il tuo settimo romanzo se non sbaglio, giusto? Alla fine, come il tempo passa, passa anche il numero di romanzi. Settimo romanzo, sempre con uno scopo sociale importante perché ricordiamo che tu sei molto sensibile e un'attenzione particolare ai più fragili. Diciamo che io ho sempre sostenuto che tutti a modo nostro possiamo impegnarci in una maniera più o meno presente in attività, in missioni o comunque anche in semplici messaggi che diano la possibilità, l'opportunità di approfondire degli argomenti. Come sai ho sempre provato a trattare argomenti che non lasciano assolutamente il tempo che trovano, nel senso che hanno una loro attualità. Il romanzo precedente, Io sono Paola, su quanto dolore produce su una vittima di pedofilia le mani che non verranno mai più cancellate. È un ricordo forte e che comunque diventa incancellabile. Così come quando ho iniziato a scrivere Abbracciami, ero convinto di trattare un argomento che fin quando non è cronaca, notizia da cronaca, vive in un sottobosco per il quale c'è sempre questa forma di protezione del tipo, vabbè, sono giochi tra ragazzi, una volta usciti da scuola non si verificheranno più questi attentati alla integrità morale ed etica delle persone. Invece non è così, l'abbiamo visto in questi giorni a livello di telegiornale, c'è l'alunno che per goliardia spara al maestro con un proiettile di gomma, altri eventi fuori dalle scuole, queste baby band, gang che a tutti i costi per un like in più, per un momento di celebrità che non porta a nulla, fanno un gran male, fanno un gran male al bullizzato di turno. Io sono convinto che se noi potessimo estrapolare da questi gruppi singolarmente le persone e far capire che c'è molta più gloria a essere ricordati come persone che aiutano il prossimo piuttosto che lo vittimizzano con atti di bullismo e grandi cattiverie, tutti uscirebbero da quel branco e sarebbero molto più disponibili e disposti a essere ricordati come persone buone. E allora ecco che nasce Abbracciami, abbracciami a pochi giorni dalla festa dei nonni, quella del 2 ottobre che nasce come festa cattolica per gli angeli custodi e poi ci si rende conto che i nonni sono realmente degli angeli custodi perché sono da guida, da saggezza ed è il caso del protagonista di questo mio nuovo romanzo che è Andrea, un ragazzo di 17 anni che vive sull'isola di Procida e al terzo anno della scuola da geometra e vive costantemente, quotidianamente questa presenza fastidiosissima di un suo coetaneo di qualche anno più grande di lui che per una scommessa non rispettata, per cui una promessa non mantenuta, si ritrova l'oggetto di bullismo e di cattiverie inaudite quotidiane al punto che lui si chiude in casa quasi con la volontà di non uscire più perché ha paura di essere il mortificato di turno, il depresso inevitabile di un gruppo che assiste e non muove mai un palmo, un dito a suo vantaggio e trova questa miracolosa presenza nella casa di cura dove c'è suo nonno che è Antonio. Lui si rifugia quasi tra le braccia di Antonio. Alla fine in Antonio trova quel faro illuminante, quell'angelo custode in vita di cui tutti i ragazzi hanno bisogno soprattutto quando non c'è un nonno presente o i genitori sono poco attenti a certi silenzi. E questo non abbraccio a me piace ricordarlo perché ha questa peculiarità. Quando non riesce a trasmettere serenità verso Andrea perché lo ritrova col morale sotto ai piedi, non trovando il modo, il rimedio per poterlo un po' rigenerare negli entusiasmi, la cosa più facile da fare è soltanto una, quella di chiedergli di abbracciarlo stretto perché io sono fermamente convinto che l'abbraccio è il gesto più naturale che possa esistere dove noi siamo in grado di trasmettere tutte le emozioni, tutte le parole che vorremmo dire in quel momento, però restando in silenzio. Ha una grande forza sicuramente. Congiunge, unisce e fa sentire due corpi un'unica sostanza, un unico battito. A me ha sempre caratterizzato grande attenzione chi ti allarga le braccia in segno di condivisione di un momento. Gianfranco, senza svelarci troppo di questo libro che poi andremo a leggere, si riuscirà a riscattare il protagonista? Lo leggerete, va bene così, nel senso che è un romanzo impostato sulla prima persona, per cui un dialogo diretto, dove ho cercato di fare in modo che il lettore quasi si affezioni a questo Andrea e tutte le dinamiche che comunque compongono questo famoso romanzo di formazione, cioè di un periodo della vita di una persona che cresce con il disagio, cresce con la volontà di in qualche modo capire se è lui che è dalla parte sbagliata perché non sa reagire, non sa difendersi o davvero attorno a sé c'è soltanto una massa indefinita di persone che preferiscono voltare le spalle o restare in silenzio ad assistere, pur di non partecipare, dimenticando che anche ad assistere si è complice alla fine se non si muove mai un dito e per dire adesso basta. La famosa omertà, no? Sì, quando c'è il dolore o quando c'è qualcosa più grande di noi, noi preferiamo molto spesso a inventarci dei motivi per allontanarci da quella che invece è una situazione dove pretende il nostro impegno fattivo. A volte anche esporsi a difesa di chi in quel momento è il più debole, credo che serva perché in quel momento emerge in noi questa volontà di essere dalla parte dei più deboli o comunque di chi ti chiede in silenzio aiuto e non sa come farlo a respingere quell'odio, quella cattiveria non giustificata. Ci regali la lettura di qualche riga? Qualche riga? Una dove alla fine c'è Andrea, il protagonista, che chiede a se stesso, ma è come se lo facesse a chi lo sta leggendo, la sua situazione, cerca di spiegare cosa significa essere un bullizzato. Purtroppo a raccontarle queste cattiverie sembra assolutamente assurdo ed impossibile, ma non è così. E soltanto chi a scuola è stato oggetto di bullismo amplificato dalle offese omofobe può capire davvero cosa porta un ragazzo timido, introverso e debole come me ad assentarsi di continuo da scuola fino quasi a decidere di abbandonarla per sempre, chiudendosi nella sua stanza per disperazione, mentendo alla famiglia di non stare bene, vergognandosi di se stessi perché non si ha il coraggio di reagire o non si sa come chiedere aiuto per esistere e respingere o realizzare il più grande dei tuoi sogni che è quello di sparire, scappare, fuggire o addirittura morire per sempre pur di porre fine alla tua scialba e spreggevole vita a cui nessuno pone mai un rimedio o un interesse. Parole forti che fanno però riflettere perché quello che vive Andrea nel tuo libro Abbracciami è una realtà che tanti adolescenti condividono e quindi magari questo libro può aiutare anche ad aprire delle riflessioni. Il bullismo si vuole etichettarlo solo ed esclusivamente nei contesti aggregativi che sia la scuola ed altro ma questa prevaricazione del più forte verso il più debole io credo che esista in tutti i contesti è la scuola, poi diventa il nonnismo nel lavoro, poi diventa le discriminazioni nel sociale mentre invece bisognerebbe assolutamente fare delle campagne di promozione per far capire che davvero a sentirsi più forti e più emulabili dagli altri è facile se si tende la mano piuttosto che quella mano violenta cerca soltanto di attrarre su sé dei like che poi alla fine non servono. Noi non abbiamo bisogno di influencer come va molto di moda questo spot, l'influencer oppure youtuber che hanno una popolazione infinita di persone che le segue. Noi abbiamo bisogno di brava gente che apre le braccia alla dolcezza e non si vergogna di essere ancora dalla parte dei più deboli che poi alla fine sono quelli assolutamente da difendere perché appartengono a noi. Vi consigliamo quindi la lettura di Abracciami, il nuovo libro di Gianfranco Jovino in tutte le librerie e anche sulle varie piattaforme. Adesso ti voglio togliere però ti voglio rubare qualche anticipazione, stai già lavorando a un nuovo libro? No, adesso è ancora troppo presto Angela, ci stiamo lavorando, ricordiamola anche che al libro è legato un progetto solidale con gli invisibili che è un'associazione di Verona con cui cercheremo di attingere fonti e sorgenti economiche perché dal prossimo anno faremo delle campagne di sensibilizzazioni scolastiche proprio contro il bullismo perché credo che più che combatterlo io credo che bisogna discuterne, parlare, far parlare chi è bullizzato. E magari se hanno il coraggio far parlare anche i bulli. E quelli io credo che da soli non parlano perché in gruppo fanno forza ma ti ripeto se le prendiamo singolarmente vedrai che sono tutte persone che hanno solo bisogno di attenzione e forse più amore anche loro. Grazie davvero Gianfranco per essere stato con noi, allora buon lavoro. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora. Grazie a tutti voi per averci seguito, ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora.